Ciao a tutti, popolo del tubo, ultima ora, ultima ora importantissima, da 7 minuti la Giants ha rilasciato in preordine con ufficialità il primo DLC ufficiale di Farming Simulator 2019. Si tratta di un pack di strumenti della Anderson, si chiamerà il DLC, Anderson Group Equipment Pack. Andiamo a vedere ragazzi innanzitutto il prezzo e la data d'uscita. Il prezzo sarà 9,99€ sia per console sia per PC, per chi ha comprato il gioco su console con il, diciamo, quello da 90€, diciamo, quello con il Season Pass, ovviamente non lo pagherà, ce l'avrà già incluso. Data d'uscita 26 marzo, come potete vedere queste sono le prime immagini del pack, ma adesso andiamo a vedere nello specifico, insomma, quello che conterrà questo pack, ragazzi. Già qua ce ne facciamo un'idea, guardate, ad esempio, sto carretto per la legna, che spettacolo, che ci avrà l'omino, l'omino sopra. Allora, questo sarà il contenuto del pack, 3, 6, 9, 12, 13, 13, 13 attrezzi che adesso andiamo ad analizzare, uno per uno, ragazzi. Allora, questo è il primo attrezzo, io credo che questo qua sia per le balle, per fasciare le balle. Adesso andiamo a vedere le immagini, eccolo qua, ragazzi, questo è quello reale, eccolo qua, questo qua è quello reale, è quello reale, è praticamente per fasciare le balle, da quello che ho capito io. Eccolo qua, è un fasciatore di balle, di balle, ragazzi, vedete, voi venite qua col trattore e praticamente fasciate le balle e poi una per una escono, ragazzi. Eccola qua, eccola qua, quindi se ho capito già che cosa è questo. Quindi questo IFX720 è un fasciatore di balle e c'è anche questo qua, diciamo, Hybrid, questo qua, credo che anche questo sia per le balle forse uno più grosso e uno più piccolo. Vediamo un attimo, sì, 13 cavalli e 20 cavalli, tutto lì. E credo che sia uno per le quadre e uno per le tonde. Vediamo un po', vediamo un po', no, 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 mi sta a uscire fuori tutta un'altra roba, vediamo un po'. Eh sì, eh sì, eccolo qua, questo è per le quadre, quindi è una per le quadre e una per le tonde, ragazzi, questo è, questo è, questo, questo è il cosino. Quindi fasciatore balle tonde, fasciatore balle quadre, però ecco, qui voi le mettete una per una, lui le fascia e le butta fuori. Poi ci sono due carri miscelatori per gli animali, uno, diciamo, da 120 cavalli di potenza richiesta, 23.000 di capacità, mentre l'altro richiede 145 e ce n'ha 29.000, quindi abbiamo dei carri miscelatori belli grossi. Poi ci sarà anche uno sparapaglia, ragazzi, un piccolino, eccolo qua, poi un altro fasciatore per le balle tonde, poi un rimorchio per caricare, credo, le balle tonde, a vederlo, RBM2000, lo cerchiamo subito con Google, sapete che Google è il nostro amico, vediamo un po'. Questo è un, eccolo qua, ragazzi, eccolo qua, questo qua carica le balle, ragazzi, adesso non so la capienza, però è un caricaballe. A vedere le immagini sopra, credo proprio che sia questo qua, quindi ce ne sono 4, 8, 12, quindi penso proprio che sarà un caricaballe da 12. Questo qua, che è un RBM Pro 2000, vediamo a che cosa servirà, anche questo, ragazzi, credo che sia per le balle, anche questo qua, quindi magari è questo quello da 12, quello più grosso, quindi Bailing e Bailing Technology. Poi, anche questo qua è un altro raccogli balle, credo che questo sia per le quadre, vediamo un po', esatto, esatto, ragazzi, questo è un autocaricante, vedete, per le quadre, eccolo qui, io credo che questo qua sia quello più piccolino, e sicuramente questo qua è quello più grosso. Poi ci abbiamo Bumper, non so che cosa sia, un Bumper, andiamo a cercarlo con Google, paraurti, ok, è un paraurti, scusate ragazzi, io con l'inglese è un paraurti, e poi questo Bailer Technology, questo Bio Bailer qua, attenzione che questo è particolare però, è particolare ragazzi, è particolare perché vedo i pioppi, i cosi, cosa sono lì? Io ho visto i pioppi prima, è strano questo Bio Bailer, chissà che cosa serve ragazzi, cioè questo taglia e imballa, mi state dicendo che sto coso taglia i pioppi e li imballa, guardate che cosa strana ragazzi, cioè fa le balle di pioppo, no ragazzi, le balle di pioppo, cioè adesso io voglio vedere un video di sto coso, ragazzi, lo vediamo insieme, andiamo su YouTube, togliamo, vediamo un po' che cosa fa sto coso, togliamo l'audio che ci rompe le Bio Bailer, vediamo un po' che fa sto coso, ok, qui ci sono i pioppi, non si può aumentare la cosa, no, 480, ah, praticamente questo fa le balle di pioppo, cioè voi passate sopra i pioppi con sto coso, e guardate, cioè lui fa le balle di pioppo, cioè sta cosa io non sapevo nemmeno che esistesse, c'è un coso per fare le balle di pioppo, cioè sta novità è stupenda, questa cosa mi piace, forse anzi potrebbe essere un incentivo a fare i pioppi ragazzi, che io in due farming che ci stanno non l'ho fatti mai, praticamente, no, è troppo bella sta roba qua ragazzi, è troppo bella sta roba qua, fa le balle di pioppo, no, 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 stupendo ragazzi, stupendo, ci farà fare le balle di pioppo ragazzi, le balle di pioppo, e poi ragazzi ci sarà sto cosino qua, che è un cosino forestale, l'M160, ma io ragazzi ho veramente preso dalle balle di pioppo ragazzi, sto cosino per fare le balle di pioppo, quindi ragazzi, questo, questo è quanto, che ne pensate di questo DLC, appunto, Anderson, vi attira qualcosa, lo comprerete, eccolo qua, poi vedete anche in gioco le balle di pioppo, guardate, lo comprerete, non lo comprerete, che ne pensate, lo sapevamo che non era il DLC classe, il primo DLC, ve l'avevo detto, lo sapevamo, vediamo un po', vediamo un po', ragazzi, voglio i vostri commenti, voglio sapere nei commenti che ne pensate, commentate, 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 in descrizione di tutti i miei social, il link per preordinare questo Anderson dal sito, dal sito ufficiale da Steam, vi lascio questo Anderson Pack, e poi tutti i miei social, e anche di Steam, l'ho detto, boh, non lo so, tutti i miei social, link utili, vabbè, Discord, ragazzi, commentate, ciao!